serio temo, problema, infortunio muscolare qui la battuta di Dezzi, siamo con le immagini ovviamente tornati ai momenti maggiormente significativi del primo tempo ottima partenza del Perugia diverse chance, destro di Brighi poi ancora il Perugia con il colpo di testa di Bonaiuto palla alta sulla porta di Micai 30 minuti di ottimo Perugia con il Bari praticamente impotente, mai pericoloso dall'altra parte continua Micai ad avere qualche brivido, qualche brutto pensiero sugli attacchi continui della squadra di Christian Bucchi poi però piano piano si spegne la spinta della squadra di casa e comincia a guadagnare a terreno quella del Bari questa è l'occasione qui migliore, grandestro di Sabelli ribatte Rosati, testa di Maniero e palla però che finisce fuori dalla porta poi nel finale di tempo un'altra potenziale occasione per il Bari bello il movimento di Maniero ma qui pizzicato in posizione di fuorigioco fuori gioco che questo replay, vedete, mostra non esserci perché Maniero tenuto in gioco dal difensore del Perugia ultimo tentativo della squadra di casa nel primo tempo questo cross in noco per la porta di Micai ci trasferiamo così a questo punto con le immagini nel secondo tempo gara equilibrata pronti via subito una chance per il Bari con questo destro al volo di De Luca che però non riesce a coordinarsi in maniera adeguata poi ancora pericolosissimo il Perugia arriva dopo tre tentativi il destro di Ricci bravo Micai a vedere il pallone forse un po' all'ultimo a distendersi, a deviare in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner arriva Delprete gran destro che palla che però anche qui trova lo specchio della porta barese ma grande chance per il capitano del Perugia sempre Umbri in evidenza con il tiro di Dezzi la deviazione in calcio d'angolo ancora Perugia grande numero di Zapata che entra in area di rigore poi Delprete colpo di testa deviazione in calcio d'angolo tra le due quella di casa la squadra che continua a essere più pericolosa poi però ancora Bari con questa gran girata di maniero giocata spettacolare del centravanti barese che sfiora l'incrocio dei pali quindi Castrovilli entrato nel finale classe 97 ma che numeri per questo giocatore del divaio del Bari qui già impegna difesa di Rosati poi il tiro di De Luca con palla anche in questo caso fuori riemerge il Perugia ancora occasionissima per Da Silva il brasiliano ex Chievo inserito a Bucchi nella parte conclusiva del match se la cava Micai e poi quando eravamo già oltre il novantesimo Castrovilli tira botta sicura deviazione con una mano di Delprete Aureliano da calcio di rigore Albari con cartellino rosso per il capitano del Perugia non ci sono dubbi qui batte maniero gran botta centrale non può nulla a Rosati secondo gol sul rigore consecutivo per maniero dopo quello dell'inutile 1-2 contro il Cittadella settimana scorsa eccolo il rigore di potenza di Riccardo Pippo Maniero che consegna al Bari la prima vittoria in campionato nel finale con il Perugia generosamente proteso in avanti dopo nove minuti di recupero l'arbitro chiude la partita vince il Bari 1-0 adesso un po' di pubblicità poi prima le statistiche già prima i numeri vediamo come riassumiamo la partita anche sotto questo punto di vista il Perugia conserva anche abbastanza nettamente il dato sul possesso palla 27 minuti contro 19 minuti e mezzo circa del Bari si è tirato molto 11 tiri del Perugia 7 del Bari il Perugia ha battuto 6 corner a 0 alla fine il Bari che però porta a casa i 3 punti adesso ci fermiamo piccola pausa e poi il nostro post gara con Marina Presello Lorenzo Minotti e i commenti che arriveranno dagli allenatori a tra poco Pippo Maniero affettuosamente per tutti Pippo e Marina Presello a voi si l'hai toccata piano è tirato un rigore fortissimo forse anche per liberare poi la gioia dei vostri tifosi e di una vittoria che a questo punto è importantissima è come se avesse aperto le porte del paradiso si è vero sono andato lì con la cattiveria giusta e ho provato a tirare forte è andata bene sapevamo che loro giocavano bene bene a palla a terra abbiamo visto la partita contro Cesena e sono una squadra molto forte l'abbiamo messa a mio avviso in difficoltà e siamo stati bravi a portare a casa 3 punti mi togli una curiosità ce la togli cosa vi ha detto Stellone nell'intervallo perché nel primo tempo avete un po' sofferto poi abbiamo visto un altro Bari si ci ha detto di giocare più liberi con la testa e di attaccare con maggiore insistenza e abbiamo ascoltato i suoi consigli è andata bene un'altra cosa ti chiedo inizia il campionato del Bari il tuo allenatore ha detto non si vincono i campionati a settembre però se volete arrivare in alto bisogna fare punti d'ora in poi è vero da oggi inizia il nostro campionato dobbiamo lottare su tutte le partite come se fosse l'ultima per poi tirare la nostra a fine campionato grazie grazie maniero bene qui con i commenti a caldo di Riccardo Maniero dunque il Bari vince la sua prima gara in campionato dopo la sconfitta casalinga con il Cittadella che se non ci sono stati stravolgimenti nel finale a sua volta ha vinto la seconda gara consecutiva battendo in casa la Ternana e issandosi al comando della classifica con 6 punti dopo le prime due partite pronti per rivedere quello che è successo nel corso del match qui al Curi vi ricordo il successo del Brescia nella gara del pomeriggio contro il Frosinone 2 a 0 il Cittadella battuto dunque con lo stesso risultato la Ternana il Bari espugna il campo del Perugia se ne va sorretto dai compagni Moras un cambio rapido e arriverà al microfono di Daniele Barone Roberto Stellone ringraziamo ancora Bucchi e il suo Perugia a cui davvero facciamo i complimenti perché abbiamo visto una squadra davvero bella nel primo tempo e dopo come dicevi tu è la tua provocazione forse magari nel secondo tempo è calata si poteva cambiare qualcosa prima però stai con il secco ma è sempre facile noi che siamo qui in piedi adesso chiederemo a Roberto Stellone io l'ho chiesto a Magnero che cosa gli ha detto nell'intervallo perché non sono usciti i suoi giocatori sono rimasti tutti lì e io sono curiosa di sapere che cosa ha detto nell'intervallo Roberto Stellone adesso glielo chiediamo perché con Daniele Barone ti risponde subito no è un segreto sono proprio i tuoi vantaggi Roberto un po' faticato questa sera a carburare mi sembrava un po' una macchina diesel piano piano avete subito soprattutto in quella prima mezz'ora poi però la qualità e anche il carattere gli aggiustamenti insomma si sono visti si abbiamo fatto una partita è stata una partita due volte nel senso nel primo tempo nei primi 35 minuti molto bene nel Perugia nel possesso nelle occasioni che hanno creato ci hanno schiacciato nella nostra metà campo non riuscivamo ad uscire bravi loro abbiamo corso però non riuscivamo ad andare o a tenere palla in avanti negli ultimi 10 minuti del primo tempo ci siamo un po' sistemati loro sono un po' calati perché comunque non potevano mantenere quel ritmo abbiamo preso un po' di campo e nel secondo tempo è stata sulla falsa riga degli ultimi 10 minuti del primo tempo dove abbiamo tenuto più il possesso palla abbiamo creato più occasioni siamo riusciti a salire 20 metri con la difesa e abbiamo creato diverse occasioni da colso sono felicissimo per questa vittoria è venuta alla fine sono contento per Riccardo sono contento per tutta la squadra perché abbiamo lavorato intensamente abbiamo passato una settimana un po' di delusione dopo la sconfitta con il Cittadella ma abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra a voi Roberto complimenti per questa è una vittoria molto importante una vittoria non casuale da grande squadra e credo che dimostri come il Bari in futuro quando sarà rodato veramente sarà uno dei protagonisti di questo campionato Castrovilli e Brienzi in panchina sono entrati la qualità poi fa la differenza sì il campionato è lunghissimo non ci dobbiamo abbattere dopo la sconfitta di sabato scorso non ci dobbiamo esaltare più di tanto dopo questa vittoria è un campionato lunghissimo dobbiamo essere equilibrati in tutto noi in campo e gli altri nei giudizi sicuramente ci vuole tempo nel senso che non è che questa partita adesso che abbiamo vinto vedrà un Bari lottare fino all'ultimo per le prime posizioni ma sicuramente abbiamo qualità abbiamo dimostrato oggi anche il carattere il coraggio Castrovilli è entrato un ragazzo giovane ed ha fatto benissimo così come quando è entrato Ciccio ha dato un po' di qualità ma tutta la squadra ha già fatto secondo me un'ottima ripresa un ottimo seno tempo e siamo felicissimi e ringraziamo anche quei tifosi che sono venuti oggi qui a Perugia a sostenere la squadra sicuramente molto contenti Stellone grazie appuntamento con il Vicenza grazie per essere stato con noi ringrazio anche Daniele Barone noi adesso dobbiamo vederci gli highlights delle partite di oggi tutti i gol ricordo anche l'appuntamento con grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori